Musica Bella ragazzi qui Raptor e oggi sono ritornato su Black Ops 3 Scusate se in questa settimana qui non sono riuscito a mettere video tra lunedì e sabato Però purtroppo non sono ancora riuscito a fare un cazzo di gameplay Perché non mi riesco ancora a trovare quella sensibilità E proprio vabbè oltre al fatto che ho guardato tutti i gameplay che ci sono su Youtube Tra alcuni dei più forti d'Italia, tra i youtuber più famosi che però ci provano e così e così Tutti quelli che sono riusciti a superare le 40 e le 50 kill ho visto che giocavano contro delle persone handicappate totali E io fino adesso ve lo posso giurare su chi cazzo volete Persone handicappate in quella maniera Ne ho trovate forse su 100 partite che ho giocato Perché più o meno ne ho giocate dalle 100 alle 120 In totale da quando è uscito il gioco Penso che ho fatto 3 partite in cui ho trovato persone handicappate Penso solo 3 Una era questa Però logicamente non avendo un cazzo di bonus Perché non so se si vede in questo video ma penso di sì Che livellerò 3 o 4 volte Ho appena prestigiato e quindi ho solo due armi in croce con qualche accessorio sbloccato Perché logicamente non avendo mai prestigiato non sapevo che cosa che mi rimaneva qui e là E logicamente ho dovuto usare un'arma che sì mi trovo abbastanza bene Però non è la fine del mondo Comunque sì ragazzi In questa settimana qui ho provato a giocare un po' alla sera Ad esempio dalle 9 fino alle 10, 10 e mezza Certe volte anche alle 11 E ho giocato un casino di tempo ieri che era sabato Per provare a farvi i gameplay Però non ce l'ho fatta Non ce l'ho fatta Perché non mi trovo benissimo con la sensibilità delle levette del joystick E in pratica vi spiego Quando vado Adesso devo guardare bene se è per colpa della sensibilità O se è proprio per colpa del joystick che non riesco Perché ad esempio se io vado su mv3 fra mezz'ora E faccio una partita Mi trovo benissimo Perché c'ha delle levette ovali sopra Dove non mi si incastra il pollice Dove non devo bestemmiare con la mira E tutte quelle affare lì E' un po' Il joystick della PS4 secondo me è un po' come quello dell'easbox Infatti quando io avevo l'easbox Che giocavo per un mese Facevo una fatica allucinante A riuscire a fare qualche partita Appena passavo su PS3 dopo mezz'ora era già finito il mondo C'è nel senso nucleari una dietro l'altra Sono proprio Ci avrò proprio le mani non lo so Ma comunque non riesco a abituarmi proprio per un cazzo E faccio una fatica allucinante Infatti adesso voglio provare a prendere Quei cazzo di Che ne hanno parlato un po' di gente online Volevo provare a prendere Quei cazzo di control freak lì Che dicono che ti aumenta un po' la precisione Per il joystick della PS4 Voglio provare a prenderli ragazzi non per fare il nabbo Perché sinceramente proprio non me ne frega un cazzo Di fare il nabbo qui e là Ormai quelle cose lì non gli do proprio più retta Ma voglio provare a prenderle perché voglio vedere se noto qualche differenza Con la mira Perché come vedete In questo video adesso E magari più in là Ci saranno dei nemici a cui sparo Che non riesco neanche a tirargli dietro un colpo Di quasi tutto il caricatore Proprio perché Non ho la sensibilità sul dito Non ce la faccio Comunque sia Devo dirvi un bordello di robe Nel video Quindi Abbrevi un po' i discorsi Allora l'altra cosa ragazzi È che siccome Proprio per via di questo discorso qui Che non riesco a giocare momentaneamente Nel senso Per chi non ha capito Non che non ho tempo Perché qualche Un po' di tempo la sera ce l'ho Però Non Diciamo Adesso inizio a balbettare Non sono proprio in grado ancora Di fare i punteggi atomici Anche perché Prima di tutto Gioco quasi sempre da solo Perché le persone che trovo online alla sera Non sono tantissime E gruppi Non ne ho ancora E Secondariamente Proprio per il motivo Per cui Faccio abbastanza fatica Però Proprio per questi discorsi qui Volevo iniziare una serie In cui Cercherò di rendere un po' più attivo il canale Diciamo Il triplo Perché Adesso sto facendo più o meno la media Di un video alla settimana Se va bene due E con questa serie qui Dovrei riuscire a portarvene Anche tre o quattro Se va di culo Che c'è proprio tempo Anche magari cinque alla settimana In pratica Questa serie qui Che mi piacerebbe tanto farla Perché ho visto che Su internet A parte A parte Gabbo Che ha fatto già Qualche Mamma mia mi si è incastrata La saliva Fanculo A parte Gabbo Che ho già visto Qualche video Che fa su internet Proprio dei giochi Che compra Appena usciti Proprio per far vedere Com'è che è Non ho visto tanta gente Che ha fatto questa serie qua In pratica vi spiego Consiste Sarà sempre su Black Ops 3 Nel fare la campagna La campagna offline Naturalmente Non che magari qualcuno Pensa alla campagna di zombie O che cazzo è La campagna offline Di Black Ops 3 Che io non ho mai giocato Fino adesso E proprio sarà Ho voluto aspettare Proprio a dirvelo Per quel motivo lì Visto che sarà Proprio una campagna In live Che non so proprio Cosa troverò Che non ho neanche mai fatto Neanche la prima Fino adesso Infatti se mi guardate Per chi mi ha come amico Sul profilo Se vede Se vede il mio profilo Visto che segnala Il livello della campagna E il livello di zombie Vedrà che sono ancora A livello 0 E volevo portarvi In questo Road to Road to campagna Poi mi inventerò il nome Comunque sarà un road Di iniziare la prima La prima missione Fino all'ultima Da farvelo vedere Naturalmente sarà in live Con io che gioco Se riesco Adesso sentirò anche Quel piccio di dad Da chiamarlo In modo da Fargli fare Il live Insieme a me E niente Volevo proporvi questa cosa Perché io penso Che sia una cosa Abbastanza carina Che fino adesso Sul canale Da quando sono Online su youtube Non l'ho mai fatta Però Siccome adesso Mettono sempre Queste cose Innovative Nei code Tipo Armi futuristiche Poi la campagna È sempre stata Una figata Nei code Poi più vanno avanti Sempre con i code È sempre più una figata Quindi Io credo che venga Una cosa molto carina Poi siete voi A scrivermi sotto Nei commenti di questo video Se la volete o no Ditemi qualcosa Che almeno So cosa fare Anche perché Come ripeto Come ho detto prima Se riesco a fare Questa serie Qua della campagna Non durerà Logicamente tantissimo Perché adesso Non so se sono 15 missioni O quante sono Però Logicamente Vedrete più video Sul canale Per un po' Di tempo E Penso che Per gli iscritti Sia una cosa Diciamo positiva Comunque Sì ragazzi Come vedete Non so se adesso Se hai già visto Nel video Che ho livellato Che cazzo è Però Ho fatto Il primo prestigio Ho voluto provare a farlo Perché mi ricordavo Che quando L'avevo fatto Su mv3 Adesso magari Non c'entra un cazzo Però io Logicamente Non riuscendo a giocare Abbastanza bene Ancora Su questo gioco Voglio provarle tutte Perché mi sta venendo Veramente il porco Comunque sia Ho voluto fare il prestigio Anche se logicamente Non sono sempre tanto A casa a giocare Perché Mi ricordavo Come dicevo Su mv3 Che appena prestigiavo Mi trovavo Delle pippe atomiche Infatti appena ho fatto Il prestigio Che ero a livello 1 E' durata fino a livello 12 Sta cosa Però poi Vabbè Era solo per fare Sto esempio In pratica Dal livello 1 Al livello 12 Ho trovato Tre partite Che ho trovato Delle pippe atomiche Infatti vi ho voluto Portare questa partita Che non sarà Un granché Perché prenderò Forse Due o tre volte Qualche ricompensa E basta Però Era l'unica Vi giuro Era l'unica decente Che avevo A parte quella di Che ho giocato A casa di un mio amico Che ho fatto Infatti non so come cazzo è possibile Che la prima partita Che faccio a casa degli altri La faccio bene Ho fatto 52 3 52 6 Boh Non mi ricordo più Però comunque sia La partita più bella Che ho fatto finora A Black Ops 3 L'ho fatta A casa di un altro Quindi potete immaginare Le bestemmie Che volevo tirare Insomma C'avevo un casino Di robe da dirvi Adesso non mi ricordo più Un caso Ah si Un'altra cosa Molto interessante Che Visto che ho Le Triton Le cuffie Le Triton AX Pro Non so se avete presente Quali sono Che in pratica Sarebbero quelle Che hanno anche Quella specie di decoder Per Boh Modificare Penso Il surround Dell'audio Penso una roba del genere Non l'ho mai usato Perché è in inglese E non ci ho capito ancora un cazzo Però Togliamo Sta Breve parentesi In pratica Ho ste cuffie qui Che mi iniziano Diciamo un po' A Grattare un pochettino Quando sposto il telecomando Lì Del volume Quindi io Per Natale Volevo Diciamo Autoregalarmi Delle altre cuffie Se potete Se potete Consigliarmi Delle cuffie Per giocare A questi giochi qui Logicamente Che servono Proprio delle cuffie Che si sentono i passi Da dio Tra Che cazzo ne so Le astro Non ditemi le A50 Perché io roba wireless Non la voglio Perché so già Che se mi cade per terra Un paio di volte Si spacca E butto via Solo soldi Quindi Roba col cavo O le astro O le turtle beach O qualsiasi marca Che conoscete Che è proprio Una roba bella Ragazzi È proprio Il top Il top Della marca Dovete consigliarmi Perché voglio spendere I soldi Una volta Però voglio Spenderli bene Non come ho fatto Tre anni fa Che mi Avrò speso 250 euro Per tre paia di cuffie Che tutte e tre Sono andate a puttane E logicamente Tarantayton Vabbè Comunque sia Consigliatemi sotto Nei commenti Ragazzi Un paio di cuffie Ottime Per giocare A COD O proprio Per sentire Diciamo L'audio Come cazzo Si dovrebbe sentire Perché Vorrei Come vi ho detto Spendere i soldi Una volta E poi Non spenderli più Per almeno Un 4 5 anni Perché queste cuffie Qui io adesso Non mi sto lamentando Però mi sono Mi sono ben durate Alla fine Allora Dovrebbero essere Durate tre anni Comunque si Allora Un'altra cosa Che volevo dirvi Che fino adesso Non ho ancora giocato A zombie Ho fatto solo Una partita Da solo E sono arrivato Fino al livello 6 Quindi se mi chiedete Cosa ne penso Di zombie Non so che proprio Cosa dirvi Per adesso Perché Ho sempre giocato Al multigiocatore Per poter Archiviarmi Diciamo Qualche partita Da mettervi sul canale Ma fino adesso Ho buttato via Solo tempo Perché Come ho detto Non sono riuscito Ancora a fare un cazzo Adesso vi dirò Bene Cosa penso Di questo Gioco qui Allora Diciamo Secondo me È un code Io parlo Logicamente Per me Poi ognuno Può pensare Come vuole Può dire A cos'è Che gli assomiglia Se gli piace Se non gli piace Tutto quello che vuole Io parlo Per Per diciamo Per i miei pensieri Ecco Secondo me È un po' Una modalità di gioco Un po' come Qual era l'altro Ah si Code 4 Perché io ho giocato A tutti i giochi Dalla A Alla Z Di code E vi posso assicurare Che è l'unico gioco Molto bello E vi posso assicurare Che è una cazzo Di figata Di cui Potevi fare kill Tante 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 kill Però Crepavi Un bordello di volte Perché me lo ricordo Ancora adesso Era code 4 Perché io mi ricordo Lì su code 4 Guerra terrestre Ancora non c'era Però mi ricordo Che quando giocavo A spedizione Ragazzi Spedizione Ho detto tutto Facevo anche 100 kill La partita Però crepavo 40-50 volte E infatti Tutte le cazzo Di partite Che ho visto Fino adesso Di code Black Ops 3 Dei grandi Youtuber Sono tutti Con un bordello Di uccisioni Ma soprattutto Un bordello di morti E infatti Ho già avuto L'occasione Di guardare Qualche ratio Di qualche fenomeno Che gioca 24 ore Su 24 E fanno Normali Non superano Neanche i due Quindi ragazzi Chiudo il discorso Perché il video è finito Avrei altre cose Da dirvi Ve le dico poi Nel prossimo Fatemi sapere Tutto quello che ho detto Sotto nei commenti Lasciate un bel mi piace Un bel commento E noi ragazzi Ci sentiamo Spero fra Pochi giorni Con un nuovo video E poi vedremo Di che cosa In base ai commenti Che mettete Bella ragazzi Grazie a tutti